musica 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 a questo punto è meglio così go to be leading officer cioè non mi dire che quello di prima perchè è assurdo che prima no open barracks ok cioè hanno le carriere non abbiamo dottrine o almeno loro hanno un pezzo di scudo two arm two arms ah eccolo qui ma ci sono arrivato io non è che c'era un percorso da seguire ok io prima ho fatto quella merda adesso non so se questo posso recutarlo a più un po' un po' un po' un po' portarlo lo sceriffo e un continuo completare missioni all'inizio perchè comunque devi imparare un po' ok le battaglie funzionano coi punti conquista perfetto perfetto escalation press go to the sheriff e convinto e convinto detteremo camp c'è da aspettare 20 secondi per iniziare mamma mia raga io ho sbagliato del tutto a prendere sta arma se io devo giocare completamente da scoperto anche se avrò il mio cavalluccio allora seguitami eh io forse dovrei dividere i compiti però ok allora dovrei mandarli in giro per la mappa go Ho sbagliato a scendere, mi sa... Dai! Mamma mia, mamma mia... Ok, cavelluccio, dove sei? Eh, non do giocarci, ragazzi, devo fare un po' di esperienza Anche se noi abbiamo dei punti, eh... Stiamo prendendo il punto C Stato, mi ha ammazzato il cavallo Eh, certo, così si gioca, eh... Vabbè, ma io ho conquistato tutti i punti però, eh... Vabbè... Dov'è? Attacchi a questa ruota! Spreda e attacchi! Attacchi! Madonna, mi hanno ammazzato il cavallo e non torna più! So senza cavallo! Vabbè, abbiamo il controllo della mappa, i punti diminiscono di volta in volta... Beh, dovrebbe essere... Molto fattibile come vittoria ormai... Soro esausto a camminare a piedi... E lo noto, lo noto! Eh, però, hanno conquistato il punto C, eh. Eh, sto bastardo sempre qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui. Questa volta sei morto, amico, eh. Ma erano in due, loro. La nostra prima vittoria in Gorgoros Blade. Certo, abbiamo avuto un picco di morti incredibile, poi piano piano si è sistemata la situazione. Ok. Vabbè, comunque la nostra forza è in battaglia. Hero. Hero dead 5, loro ne sono morti 12. Unit stat. Team stat. Ah, eravamo cinque gli eroi, ho giocato malissimo. Ok, dovremmo parlare nuovamente con il signor Sheriff, perché abbiamo completato la nostra missione. Ci da un po' di missioni da portare avanti. E noi possiamo farlo in questa maniera. Adesso, stiamo capendo un po' le meccaniche. Mi piace un botto, ragazzi. Penso che continuerò a giocarlo spesso. Uniti, teneniche. Uniti, teneniche. Siete pronti? Vorrei fare circa un'ora di ring and play, e meno così. Allora, interact with the supply point per... ok. Summon units. Ok, stavolta dobbiamo addestrare gli arcieri. uniti! Uniti, attenzione! Bellissimi! Premi uno per attaccare nell'aria. C'è molti comandi Ok qui in questo caso il nemico Ci guarda giustamente Loro continueranno ad attaccare il punto A meno che io non do cambio ordine Training camp Quindi nuovamente ragazzi Training camp perché Penso che dovremo farne parecchie Di queste battaglie per sbloccare un po' di Abilità un po' di money pure Ci sono tante Tante cose che possiamo ottenere Quindi ci conviene allenarci lì Una sorta di allenamento Ancora abbiamo fatto una sola battaglia E non siamo sicuri delle nostre capacità Ok ragazzi partiamo da nord Abbiamo la necessità di ordinare i nostri uomini Di attaccare Andate ragazzi Sto cavallo corre malissimo Porca miseria Si muove in maniera molto goffa Mamma mia guanta gente dai Che il primo lo eliminiamo Siiii Il nostro combito ad arcire appunto è questo Colpiamo Colpiamo forte E questo punto è nostro Avanziamo E questo punto è nostro Scusate la concentrazione ragazzi, ma provo a farne fuori il più numero possibile E certe volte un po' mi distraggo Perfetto Mi riescono da tanto assist Eh o qua ci ha fatto fuori tutti Critica la cosa, capiamo Dov'è il mio cavallo? Eh ma non sta andando bene la battaglia Mi attacco in due qui Sono un povero scere io La vita che stavolta è andata malissimo Provo a conquistare il punto A Se il mio eroe si muove Stiamo vincendo ma io non riesco a capire se le mie truppe potevano essere nuovamente spawnate Perché non le vedo sulla mappa E dai Ce l'abbiamo fatta Non è stato di certo merito mio Però ce l'abbiamo fatta Bel po' di esperienza Forse sbaglio a non farle respawnare Anzi C più Meglio di prima L'altra volta ho fatto D Sono morto 3 assist Ah qui sono morto pure Vero Una volta sono morto Non uccido nessuno io Da buon arciere C'è Zunod Da arciere Ne ha ammazzati 3 4 Abbiamo la necessità di fare esperienza Ammazzarci di livello 10 secondi E iniziamo Ci sarà un punto di respawn Sicuramente Arriba Arriba no Arriba no Ci vuole un po' di tattica Ragazzi Perché comunque Il nemico Altrimenti Ci aggira E si va a riconquistare Di nuovo I punti Oh stavolta Voglio dare un contributo Anch'io Ho assistito Quelli che arrivano Di nuovo Di nuovo Sul cavallo Per noi È stare al sicuro Il nemico Ci sarà girando Spero di non dover Aio 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 Non ce la faccio A fare Un uccisione Io Neanche stavolta Allora Il nemico Prova Ad attaccarli Respawnano E arrivano Sempre In continuazione Niente uccisioni Non riesco È arrivata Forse anche La prima uccisione Promozioni Per i Demesne Spearmen Due ne ho uccisi B Livello B Certo Cry it easy 11 volte Ci sta E dobbiamo vedere Adesso come Promuovere Queste truppe No Questo gioco Mi sta Prevendendo Precchio Precchio Siamo all'imminente Uscita di Barner Lord Ragazzi Devo trovare Un diversivo Su quale Ripiegare Ok Andiamo a vedere Un po' Autosegna Punti Vediamo Se abbiamo Qualcosa Ok E se abbiamo Delle skill Siamo a Sbloccare Un po' Per adesso No Ok Tre vittorie Ragazzi Tre su tre Adesso Dobbiamo vedere Come andare A far Livellare Le nostre Unità Quindi Prendiamo Desmene Veteran Si Perfetto Abbiamo Attivato La prima Promozione In gris La salute Aumenta La salute Del 3% Che è Pochissimo Però Ci sta Gli altri Vediamo Vedere Un po' Se ci conviene Abbiamo Anche Loro